Il tuo testo ti sta conducendo a Poesia Italiana Contemporanea. Sei sicuro sicuro? Hai selezionato Poesia Italiana Contemporanea. Grazie di aver scelto la destinazione. Poesia Italiana Contemporanea. Per raggiungere Poesia Italiana Contemporanea. Per favore, cambia i dati dell'orologio sul tuo cruscotto. Sei pregato di settare l'orologio su. 2 novembre 1930. Grazie. Sincronizzazione effettuata. Procedi in direzione. Poesia Italiana Contemporanea. Procedi dritto per un metro poi mantieniti sulla destra. Ora portati sulla destra preparandoti a svoltare a destra. Svolta a destra. Procedi dritto per un metro poi mantieniti sulla destra. Ora portati sulla destra preparandoti a svoltare a destra. Svolta a destra. Procedi dritto per un metro poi mantieniti sulla destra. Ora portati sulla destra preparandoti a svoltare a destra. Svolta a destra. Vai avanti così a girare a destra all'infinito. Destinazione raggiunta. Sei nella Poesia Italiana Contemporanea. Il numero civico che ha indicato è Vittorio Sereni. Errore. Corretto. Il numero civico che ha indicato è Sandro Penna. Errore. Corretto. Il numero civico che ha indicato è Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Procedi dritto per zero metri. Sei arrivato a destinazione. Attenzione. Sconnessione temporale. Errore. 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 Il datario segna il giorno primo novembre 2020. Non è più il 1930. La Poesia Italiana Contemporanea sta ora nominando tutti i Santi. segnalazione di intruso. La Poesia Italiana Contemporanea non riconosce. Allarme paradosso. Ti stanno tutti addosso. Hai raggiunto il punto cieco noto come. Prosa in prosa. Deflagrazione imminente.